Benvenuti su 9 minuti, io sono Alessandro e oggi riflettevo che ha proprio molto senso il fatto che ci sia un uomo forte, come Conte, a capo del Movimento 5 Stelle. Gli italiani, e a quanto pare anche quelli che si considerano del Movimento 5 Stelle, vogliono un uomo forte. E Conte è un uomo forte. Un uomo forte che può darci tanto. Un uomo forte che potrebbe regalarci un ventennio in cui si possano ribonificare tanti territori italiani. Un ventennio di lockdown. Un ventennio di politica fatta un po' come si faceva prima, prima che il Parlamento venisse aperto come una scatoletta di tonno. E pensavo che ha veramente senso il fatto di avere un uomo forte a capo di un Movimento, che non è un partito, ma forse ora diventa un partito, che si propone come scopo la cittadinanza diretta, la democrazia diretta. ha senso. Perché così uno vale uno, ma un uomo forte, un uomo forte quanto vale? Chi lo sa? Chi lo sa? Grazie per l'attenzione. Ci vediamo al prossimo video.